Damiano Vestigi è un club del 2015 molto buono per te, soprattutto hai tenuto alto la bandiera italiana e mondiale di Gazzana, la staffetta 4-400 stile libero, un tuo commento su questo anno 2015 e anche un tuo giudizio, magari una pacella? Un giudizio sicuramente positivo è stato l'anno 2015, si è concluso nei migliori dei modi con la partecipazione ai campionati universitari, ovvero le università di Guangzhou e dopo essere stato nominato dalla squadra capitano della nazionale è arrivata poco dopo la qualificazione e la convocazione per i mondiali di Gazzana dove abbiamo ottenuto, o almeno io ho ottenuto una buona prestazione, il mio personale ne ho nella frazione della 4-200 stile libero. Il giudizio quindi è positivissimo e questo dà ovviamente una grande botta di fiducia per quest'anno, dove appunto ci sarà l'anno Olimpio, quindi ci saranno le Olimpiadi di Rio de Janeiro. Quindi un anno quello che sta per arrivare molto importante, alla fine è quattro anni Olimpi, come ha detto l'Olimpiadi, ma anche gli europei che ci saranno a maggio a Londra. Che obiettivi hai e che propositi hai per questo anno che sta per venire? Ma è inutile nascondersi, cioè l'obiettivo è uno e uno solo, quello di qualificarsi alle Olimpiadi di Rio. Ci sono due grandi, anzi tre grandi passi per qualificarsi, ovvero i campionati italiani primaverili si svolgeranno a fine aprile, a Riccione, poi il secondo pass sarà possibile prenderlo agli europei di Londra e poi un terzo ed ultimo pass, il cosiddetto ultima spiaggia, sarà il trofeo Sette Colli che si svolgerà a metà giugno, come ogni anno. È ovvio che l'obiettivo, come ho detto, è qualificarsi alle Olimpiadi, sarebbe la mia seconda Olimpiadi, sarebbe un sogno raggiungerla a 27 anni e speriamo bene.